giochi sul nostro podcast il podcast ludico benvenuti a una nuova puntata del podcast alla voce fapos e qui con me abbiamo due persone la prima è andrea whitewiston fatti sentire a tutti i ragazzi bentornati o bentornato io insomma era un pezzo non veniva registrare un podcast sempre un piacere e poi qui con noi è un grande piacere avere come ospite il capo redattore della tana dei goblin nonché l'insieme delle associazioni ludiche più grandi d'italia marco azaroth ciao ciao a tutti oggi abbiamo il piacere di avere azaroth tra noi o marco non so come preferisci è uguale come volete è uguale allora andrea dici raccontaci come mai abbiamo qui con noi azaroth allora oggi abbiamo azaroth perché tanto tempo lo volevo invitare qui al podcast per fare una chiacchierata e ora vedremo più o meno quali saranno i temi che andremo a toccare direi di rompere il ghiaccio marco con un excursus visto che è ancora calda quasi tiepidina diciamo la l'ultima play passata e come ogni anno la tana insomma ha avuto i suoi spazi una partecipazione importante anzi si può dire anche fondamentale per tanti motivi e dici un po com'è andata che risultati avete raggiunto ma quest'anno era una sfida abbastanza impegnativa perché l'organizzazione di play aveva deciso anche di comune accordo di provare a espandersi diciamo definitivamente nel padiglione c che fino agli anni scorsi era un pochettino relegato a qualche attività collaterale e questo ha permesso intanto al padiglione a e al padiglione b di avere più ampio respiro per i giochi da tavolo ma anche di essere affiancati poi da attività come il gioco di ruolo che non so se avete visto era un'area veramente grande veramente importante e anche tutta la parte che c'era della pittura delle miniature che mi pare quella fosse invece nel padiglione b importanti e poi tutta l'area di gioco libero è stata quindi destinata al padiglione c dove diciamo un 80 per cento circa era gestito dalla tana in quattro grosse aree l'area prestito che è la più grossa cioè quella per cui chiunque va da lì dentro può accedere al diciamo al catalogo dei giochi che abbiamo dietro portarsi al tavolo giocarli a volte anche farsi di anzi spesso anche farsi rispiegare da qualcuno che lo sa poi c'era l'area replay in cui diciamo di solito proponiamo una dozzina di grandi classici proprio per fare un po riscoprire a chi magari va a play dalla prima volta o gioca da poco qualche gioco che insomma è sempre bene avere grandi classici tipo ma puerto rico pandemic terra mistica c'era quest'anno quindi tutte cose che hanno almeno dieci anni quindi devono avere almeno dieci anni e che ovviamente hanno mantenuto la loro sì la loro forza nel tempo ecco ok poi c'era ovviamente l'area magnifico con gli otto selezionati più l'incitore anche l'anno scorso e anche dello scelto dai goblin e la quarta area quest'anno era un pochettino una non pochettino era effettivamente una novità anche questa ce l'aveva chiesta pre play espressamente era un'area in cui si giocavano i vincitori dei maggiori premi internazionali del dell'anno precedente ovviamente e quindi c'era non so il vincitore dell'international gamers award dello spill the yards della store francese eccetera erano lì intavolati in dimostrazione con la loro targhetta del premio vinto è stata un'area anche quella abbastanza interessante anche perché poi play ha provveduto a coinvolgere anche una scuola locale di modena per cui i ragazzi di questa scuola spiegavano questi giochi anche insieme un pochettino alla nostra avevo letto iniziativa molto carina sì e quindi insomma è stato anche piacevole per quello ecco la devo dire il padiglione è stato sempre ben affollato e ha funzionato per cui mi sentirei di dire che è stato un esperimento assolutamente riuscito ma ripeto non solo per il successo del padiglione c ma proprio anche per la distribuzione generale delle cose all'interno della fiera trovate molto ben legate quest'anno sì sì ma poi anche magari aree appunto che prima erano un pochettino nascoste poco sviluppate quest'anno hanno potuto avere una uno spazio maggiore una visibilità maggiore io sono rimasto abbastanza impressionato del gioco di ruolo forse perché non è uno dei miei interessi e quindi non ci ho mai fatto tanto caso ma ho visto veramente tantissimi tavoli tantissima gente a giocare no no erano ben legate secondo me e c'era la meno la sensazione che ci fosse le aree di serie a e quelle di serie b insomma erano più o meno tutte abbastanza attrattive la percezione la percezione che si è avuto dall'esterno è anche è stata anche di una maggiore organizzazione perché avere la tana con tutto un suo spazio che raccoglieva la gente che cercava apposta la tana era un qualcosa che ti indirizzava subito sapevi che eri là dove andare là e potevi fare quello che volevi lì quindi una maggiore organizzazione ma anche quasi un maggiore spazio dedicato apposta per la tana che è un bene un bene perché offre tantissimi servizi alla fine ma sai nel momento in cui diciamo i tavoli quest'anno c'erano stati quasi raddoppiati rispetto a quelli dei dell'anno precedente comunque degli anni precedenti quindi e poi alla fine i conti li tiri vedendo se sono pieni o no perché e sono stati praticamente sempre pieni e poi appunto con questa organizzazione c'era come dicevi tu meno dispersione nel senso che se uno sapeva che voleva provare magari giochi che aveva appena acquistato o provarne qualcuno prima di acquistarlo e sapeva esattamente dove andare andava lì si sedeva e poi magari si gli faceva un giro per la fiera acquistare altra roba o comprare quello che aveva appena provato quindi era anche proprio a livello mentale una un tipo di 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 percorso più più facilmente distinguibile io ti dico già gli anni scorsi così ma quest'anno come non mai sono arrivato al padiglione della tana con l'idea li vado a giocare la vado a guardare ad acquistare eventualmente a scambiare due chiacchiere con autori editori ma avevo più veramente anche gli anni scorsi ma quest'anno ancora di più l'idea di venire al vostro padiglione per la selezione comunque dei giochi io non ho preso giochi in prestito ma comunque insomma lì al magnifio bazzicato più che altro quell'area lì no ma è stata un'idea che va riconosciuta a play ecco perché poi viene da lì dalla loro organizzazione noi l'abbiamo abbracciata e sposata ma diciamo il merito poi diciamo di averla avuta è loro sicuramente a zarot possiamo dire quali sono le tane che maggiormente hanno partecipato all'organizzazione della play no perché non lo so nel senso che non ti so dare questi numeri fai conto che la partecipazione a play è una delle pochissime ovvero due tre diciamo cose obbligatorie che deve fare un'associazione per aderire alla tana dei goblin però la partecipazione play fai conto che viene richiesta nel minimo di una persona quindi non è diciamo una cosa impossibile per un gruppo di gioco anche fatto magari da solo una decina di persone mandarne una play fermo restando che di solito poi magari i giocatori comunque ci vanno lo stesso play quindi tutte le tane bene o male partecipano in misure diverse anche in base al numero degli iscritti chiaramente a me ha fatto particolarmente piacere quest'anno che la mia associazione è entrata nella nella tana dei goblin dopo qualche anno che la frequentavo e sono venuti quattro cinque nei spalmati nei tre giorni per essere diciamo la prima volta la prima esperienza si sono comunque dati da dati da fare l'esperienza è stata positiva e questo mi ha fatto ovviamente molto molto l'associazione vela di massa intendi sì 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 l'associazione ludica puana che che io frequento da quattro anni dopo diciamo quest'anno sono diventati anche tana dei goblin ok abbio se non hai altre domande si possiamo passare all'argomento dopo qual è l'argomento dopo argomento successivo argomento quello più spinoso quello esatto per il quale anche per il quale per il quale abbiamo invitato agzarot a me faceva piacere siccome potrei dire ultimamente ma in realtà da sempre periodicamente ciclicamente si diciamo partono discussioni sui social piuttosto che altrove su partendo da dalle copie review alle recensioni all'oggettività alla competenza insomma a questi aspetti che ruotano intorno al ai siti ai blog che fanno recensioni e ai recensori che si mettono lì e le scrivono marco penso sia uno dei si può dire principali recensori di giochi da tavola in italia non a caso è caporedattore della tana dei goblin personalmente le tue recensioni io le leggo sempre insomma a meno che proprio ma di solito recensisci sempre giochi sono nel mio target quindi più o meno mi trovo in linea e ecco e mi faceva piacere con te ecco un po sviscerare questo tema partiamo al recensore secondo te è una figura che oggi deve avere determinate caratteristiche per potersi dire tale cioè per scrivere una recensione o ancora possiamo andare a navigare con basta scrivere ma allora ovviamente uno può definirsi come vuole quindi uno che scrive può anche definirsi recensore io da quando mi sono messo diciamo al tempo in testa di scrivere recensioni ho sempre pensato che per scrivere recensioni bisognasse avere tre requisiti il primo è quello comunque di giocare tanto il che ovviamente non è sufficiente a fare recensioni però è necessario per avere quantomeno la base l'esperienza di sapere di cosa si sta parlando anche in termini di confronto perché mi ricordo quando io ho iniziato a giocare qualsiasi gioco io mettessi in tavola mi sembrava dopo risico e monopoli qualcosa di assolutamente geniale spettacolare e poi ovviamente giocando di più e indagando un po' di più su quello che era venuto prima eccetera eccetera ho capito che magari quel gioco spettacolare in fondo non era altro che la copia di un altro gioco venuto prima che magari è anche migliore quindi sicuramente avere una certa cultura ludica un certo orizzonte ludico è il primo requisito del resto chi parla di cinema per esempio deve guardare i film insomma questo chiaramente non basta perché serve anche una capacità di analisi perché c'è tantissima gente che gioca molto ma non ha capacità di analisi di un gioco questa purtroppo è una cosa un po' in parte un po' innata nel senso che come c'è chi a scuola è più portato per la matematica e chi meno e anche studiando magari non raggiunge mai i risultati eccessi e probabilmente la capacità di analisi anche per queste per i giochi o per altre cose della vita ce la devi un pochettino avere dentro questa è anche difficilmente automisurabile nel senso che puoi renderti magari conto nel tempo man mano che scrivi recensioni man mano dei commenti che ricevi man mano magari che leggi altre recensioni degli stessi giochi con analisi diverse dalle tue ti puoi rendere conto se quel gioco effettivamente lo avevi capito bene oppure lo avevi giudicato male allora magari farti un attimo un esame di coscienza e dire ma forse mi manca qualcosa per riuscire a entrare dentro i giochi ecco è una cosa che secondo me valutabile solamente col tempo e con l'esperienza e con un pochettino anche di di autosame se ce l'hai questa capito talvolta sì sicuramente è chiaro che all'inizio non 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 è difficile dire cavolo sono proprio bravo a capire i giochi e a valutarne i vari aspetti magari una battuta un gioco lo trova splendido dopo un anno se va a rivedere quella recensione dice è ancora splendido sì allora vuol dire l'avevo valutato bene invece ho cambiato idea vuol dire che lì per lì mi ero lasciato trasportare dalla e per carità a volte è anche molto utile rintornare sui propri errori e dire ho fatto un errore di valutazione magari anche scriverlo nero su bianco perché è giusto sia verso l'esterno e anche verso verso te stesso prendere coscienza comunque che hai fatto un errore perché magari puoi migliorare da questo errore ecco qua si viene poi al terzo punto che può aiutare comunque anche in questo e è il punto io penso più trascurato e più tralasciato da da chiunque scrive di giochi che è studiare e studiare vuol dire banalmente prendersi un libro in mano e cominciare a leggerlo che è una cosa oggi un pochettino in disuso lo capisco però se uno vuole come dire elevare un po il livello della sua critica è bene farlo poi ci sono anche strumenti online in tan abbiamo con con somma fatica buttato giù la goblin pedia che è un insieme di voci che riguardano il gioco da tavolo molto carina tecnici spiegati a noi non ci sembra ma in realtà il linguaggio che utilizziamo diamo per scontato termini che per uno che entra in questo mondo non sono poi scontati per nulla e e poi ci sono tanti libri di game design per fortuna oggi tradotti anche in italiano con classificazioni tipologie analisi di giochi non è come dire necessario leggerne 20 di questi libri però almeno uno io dico prenderlo in mano magari un testo semplice tipo elementi di game design è il primo che mi viene in mente e leggerselo ti aiuta ad avere quantomeno un quadro concettuale un po più completo sul prodotto che ha in mano che non è solamente diciamo il frutto di uno che si è svegliato una mattina ha messo insieme due due meccaniche ma spesso c'è dietro ugualmente un lavoro concettuale preciso e ti aiuta soprattutto ad analizzarlo meglio se tu sei consapevole delle meccaniche dei pregi dei difetti dei giochi di delle dinamiche e riesci poi a identificarle meglio all'interno di un gioco e a capire se una cosa funziona bene o funziona peggio quindi in sostanza queste tre cose secondo me sono alla base del fare recensioni in maniera quantomeno poi aggiungerei marco forse la quarta è saper comunicare che ah sì quella non è scontatissima perché anche te scrivi e fai video che sono due canali completamente diversi ma tutti e due hanno bisogno di una certa competenza cioè saper scrivere e saper scrivere bene argomentare saper fare video quindi saper parlare stare di fronte a una telecamera eccetera eccetera bene quindi direi questa è una abbiamo delineato un po il ruolo del recensore ecco ma quando le persone si approcciano a giudizio di un recensore assi con fanboy no che legge una tua recensione negativa di un gioco ora non me ne viene in mente neanche uno e non è d'accordo e comincia a dire non capisci niente perché cioè quello che scrivi è tutto opinabile è questione di gusti a me sta cosa mi fa ribollire sempre un po il sangue e si allora l'idea che sia tutto questione di gusti ovviamente deriva da due cose il primo il fatto che nessuno vuole sentirsi smiluito nei suoi gusti e quindi se a me piace una cosa e uno mi dice che quella cosa è tecnicamente brutta o poco valida io mi sento smiluito nel nel mio gusto ovviamente questo è una fallaccia è una fallaccia logica che per alla quale però siamo soggetti tutti quindi se è un critico cinematografico viene a dirmi che natale sulla neve è un film penoso io che magari anche natale sulla neve mi sono sganasciato al cinema mi sento offeso in realtà no io non mi devo sentire offeso perché lui ha perfettamente ragione dire che il film è pietoso ma il che non mi impedisce magari di divertirmi con lo stesso questo però è un passaggio che è spesso difficile da effettuare quindi la maggior parte delle persone perché giustamente siamo animali emotivi e non solamente razionali ci sentiamo immediatamente attaccati nel nel nostro gusto personale anche se poi l'analisi è riguardano un gusto ma riguarda altri aspetti aspetti tecnici possiamo dire esiste una una sorta di oggettività poi non è detto esiste allora è chiaro che c'è sempre un è chiaro c'è c'è un bias che ognuno di noi si porta dietro e che comunque è sempre difficile accantonare del tutto d'altro canto però non bisogna nemmeno nella valutazione fare l'errore opposto e svalutare tutto come completamente soggettivo cioè ci sono degli studi ci sono dei parametri ci sono appunto come dicevo prima delle cose che si possono studiare applicare vedere come funzionano e su quelle si può dare un parere che se non oggettivo al 100% quantomeno tende un po all'oggettività poi o quantomeno tende all'oggettività che è quello a cui io cerco di fare come recensore ci sono anche poi rimane un parere secondo me alla fine nel senso è come nella critica cinematografia è chiaro se ora hai preso Natale sulla neve parafrasando uno no va bene ma se esiste un po' tutta la critica sarebbe quasi unanime se prendiamo un titolo un po' di mezzo ci saranno sempre recensori che lo promuoveranno un po' di più e un pochino di meno però ecco entrambi proveranno a mettere in campo dei parametri abbastanza oggettivi poi è chiaro che neanche in fisica esistono gli scienziati completamente concordi quindi si capisce da sé che l'oggettività al 101% è un'usopia chiaro l'importante ecco è secondo me non cadere nel tranello opposto cioè quello di derogare tutto a una soggettività gusti personali i gusti sono una cosa la critica è un'altra quindi a me può piacere un sacco qualcosa che la critica stronca o viceversa non piacere per nulla qualcosa che la critica osanna che forse è anche la cosa più più frequente pensiamo sempre anche nel campo del cinema sicuramente diciamo che il vincitore del festival di Cannes ecco per fare un esempio non è di solito un grande blockbuster no? quindi il pubblico non è proprio invogliatissimo a portare milioni di dollari nelle sale per vedere generalmente il vincitore del festival di Cannes giusto? però se uno si intende di cinema probabilmente in quel film lì troverà delle cose molto valide e quindi diciamo questo atteggiamento del derogare tutto a questione di gusti è in secondo luogo in primo luogo figlio diciamo della nostra percezione insomma della nostra offendibilità in secondo luogo figlio è un po' dell'ignoranza cioè è chiaro che se uno gioca tanto per giocare e non pensa magari a tutta l'analisi che ci può stare dietro non ha nemmeno se vogliamo troppo gli strumenti per capire una critica se io adesso vado a leggermi la critica di un argomento che non so mi interessa zero probabilmente capisco poco anche del pezzo critico perché non sono abituato a leggere quel tipo di linguaggio o non sono abituato a quel tipo di parametri che vengono considerati anche lì purtroppo come in tutte le cose bisogna un po' addentrarcisi dentro avere un po' la pazienza anche un po' l'umiltà se vogliamo di dire forse ne sa più di me ecco poi talvolta diciamo l'opinione del pubblico secondo me ha un suo peso nel senso che il blockbuster nel cinema ma anche il blockbuster nei giochi da tavolo difficilmente sarà un gioco rotto o veramente brutto o anzi molto spesso il regge alla prova del tempo nei giochi diciamo più solidi più qualitativamente più alti indipendentemente dal genere ma anche dal dal peso quindi hai fatto l'esempio di Cannes però ci può essere anche chi vince l'Oscar ed è un gran film insomma sì anche se è sempre un delitto che caverna sia sopra ad agricola ecco diciamo nella classifica di Borking Geek quello non ha senso e secondo te le persone hanno più bisogno di un recensore oggi o di qualcuno le influenzi senza necessità di andare a sviscerare allora il bisogno è una parola le persone hanno più bisogno di un recensore ma non lo sanno e quindi vanno dietro un'influenza ma pensi perché lo scambiano per un recensore non sono sì anche sicuramente la voglia è pieno di esempi io ora in una delle hai citato prima che a volte faccio anche video in una delle interviste che ho fatto ovviamente non farò i nomi ma ho chiesto qual è la tua meccanica preferita e questa persona intervistata che è una persona che fa recensioni tra virgolette presenta giochi e che è un influencer o quantomeno un influencer wannabe mi ha risposto fischi per fiaschi cioè segno che non sapeva nemmeno cosa volesse dire termine meccaniche in giochi da tavolo però è una persona che ha un suo seguito che probabilmente fa comprare dei giochi che li fa vendere a un editore o a più editori però il pubblico non se ne accorge chiaro che allora il pubblico non se ne non se ne accorge almeno una buona parte del pubblico un po' perché è molto più semplice andare dietro un influencer un po' nella nella definizione stessa dell'influencer cioè l'influencer è comunque qualcuno che riesce a essere accattivante e a influenzare il tuo gusto il fatto poi che la maggior parte del pubblico non si renda conto che magari questa influenza deriva da una sponsorizzazione o che dietro questa influenza non ci sia la minima preparazione tecnica e questo è un problema generale che va ovviamente ben oltre il gioco da tavolo ed è anche poco risolvibile un po' perché moltissimi ti risponderanno che è un hobby e che loro lo prendono con leggerezza e che non hanno certo voglia di leggere una recensione o di studiare dei termini tecnici eccetera eccetera e quindi tanti a priori rifiutano il fatto che ci sia qualcosa oltre il divertimento puro e semplice nel gioco da tavolo e quindi se uno rifiuta questo tipo di approccio è chiaro che poi segue chi gli sta più simpatico chi ha più bella presenza chi parla meglio chi fa la battuta spiritosa eccetera ma io non è che ci puoi fare nulla assolutamente possiamo pure dire che un po' le recensioni da un certo punto di vista sono passate di moda o comunque vanno molto più di moda gli influencer diciamo netti to cure e visto che hai citato un po' questo aspetto della sponsorizzazione e nel nostro mondo si chiamano copy review va bene quindi che sono banalmente l'editore ti fornisce una scatola con l'intento di fare qualcosa poi a seconda di che tipo di influencer o blogger o quello che sei fai video tutorial eccetera eccetera secondo te è possibile mantenere una certa aggettività nel momento in cui l'editore ti fornisce una copia review? no beh allora se il rapporto è prolungato e continuativo no se il rapporto è saltuario meno ma c'è sempre questo rischio ma soprattutto al di là del discorso mi hanno fornito questa copia review ma io sono stato lo stesso onesto ve lo faccio sapere e questo è il mio onesto parere ed è un discorso ovviamente che lascia il tempo che trova nel senso che poi uno può credere non può credere il recensore stesso può avere un bias più o meno inconscio su questa copia su quello che scriverà sul mezzo punto in più il mezzo punto in meno è un discorso di opportunità e questo discorso l'ho l'ho ascoltato anche ultimamente a proposito del casino che è successo con quakalop da un altro recensore online che è league of games che ha fatto un intervento praticamente quasi tutti hanno fatto un intervento a proposito della situazione che non solo ha detto per fare una recensione il gioco lo devi avere acquistato ma ha fatto secondo me un discorso che io ho in mente da tanto tempo cioè una questione di opportunità nel momento in cui tu hai un gioco regalato non ha importanza non ha più importanza che tu sia stato onesto o no nel momento in cui il gioco ti è stato dato e tu non l'hai acquistato e ci fai una recensione automaticamente quel tipo di contenuto è da adito a a un sospetto è è è diciamo qualcosa che che è a monte tu devi cercare col pubblico di di non dargli motivo di dubitare poi magari il pubblico non dubita anche se tu il gioco l'hai avuto in regalo sei fortunato hai un pubblico al quale non importa niente se i giochi te l'hanno dati se te l'hanno regalati o se addirittura ti pagano per fare la recensione scusami scusami se ti interrompo perché arrivati a questo punto forse dovremmo precisare un attimino cosa è successo con quacalup che lui è uno youtuber ed essenzialmente è stato accusato di truffa dagli editori perché lui creava due video uno pro e uno contro e poi esorceva denaro in poche parole diciamo che è successo con un editore in particolare che ha pubblicato le mail che ha avuto in scambio con quacalup in cui quacalup gli diceva che aveva questo video pieno di critiche e però poteva diciamo non pubblicarlo per una cifra anche diciamo parecchio cospicua l'editore ha mandato a spigolare e lui ha pubblicato il video però ovviamente poi l'editore ha pubblicato le mail questa diciamo riassunta brevissimamente però vedi questo è ovviamente un comportamento che se poi verrà verificato ma insomma le mail sono anche pubbliche è estorsivo quindi ovviamente è uno step successivo parecchio successivo a quello di cui parliamo il fatto però che tu ti metta nella mentalità di dire io di questo gioco parlo se me lo regalano oppure mi hanno regalato questo gioco e quindi ne parlo in un certo modo o comunque di dare adito al dubbio perché è qui il punto nel momento in cui io scrivo questa scatola me l'hanno regalata non ha quasi più importanza che io dopo effettivamente sia sincero o no perché io ho già messo il dubbio in chi mi legge poi chiaro che tantissimi eh pigliano le scatole e scrivono o fanno video e non dicono che gli sono state regalate questo è poi è un discorso che fa ancora oltre o addirittura non solo perché poi ora parliamo di scatole regalate ma in realtà molto spesso proprio nel mondo degli influencer essere anche un pochino più quotati si parla di soldi anche non di scatole base anzi la scatola è il niente il base il meno è il meno ma soprattutto appunto e qua riteniamo al discorso di prima il fatto che un contenuto sponsorizzato non sia una recensione formalmente ma passi da recensione perché tu a volte si dice va bene ti regalano o ti pagano per parlare di un gioco però fai il tutorial o fai il video il gameplay quindi non è una recensione non c'è niente di male allora teoricamente è vero in pratica però è comunque una mossa pubblicitaria io comunque nel mio canale ne sto parlando sono stato pagato per parlarne poco importa che io ci scriva sopra recensione ufficiale e invece magari ne parli tutto contento all'interno di un gameplay faccia vedere che il gioco è divertentissimo e alla fine di caos sono proprio soddisfatto non è una recensione tecnica certo però il gioco l'hai sponsorizzato quindi ci sono anche tutti questi escamotage se vogliamo per mettersi la coscienza a posto o comunque mettersi la faccia a posto davanti a chi ti segue ma ripeto è un discorso anche abbastanza inutile perché me ne posso accorgere io ma la maggior parte del pubblico non se ne accorge o forse ecco anche non gli ne importa nulla di accorgersene cioè a te comunque sta simpatico uno perché a un certo punto l'aspetto comunicativo conta più del contenuto cioè la presenza il modo in cui comunica il modo in cui parla è un intrattenimento che va oltre poi il contenuto stesso questo questo sicuramente agli editori ovviamente questa cosa fa estremamente comodo io però rimango nella mia nicchia diciamo asserragliata e gatekeeper esca senza assolutamente vergognarmene senza farmene problemi per cui preferisco fare in altro modo anche magari facendo meno views meno ascolti anche a volte passando per essere elitario antipatico o altri termini che ora non mi ricordo ma cioè non sono cose che mi tocca ogni tanto ti capita allora quella delle recensioni negative ovviamente ovviamente non è che è uno sport poi in realtà sembra che ne scriva chissà quante in realtà comunque sono poche rispetto solo che essendoce normalmente zero anche quelle poche sembrano tante ma in realtà non è così quello che io dico sempre anche in Tana agli altri redattori è guardate la recensione positiva siamo buoni tutti a scriverla la recensione negativa è un atto di di lealtà verso chi chi ci segue cioè se te un gioco trovi che abbia dei difetti e secondo te quel gioco per qualche motivo non funziona dovresti avere il dovere ancora dovresti ancora di più sentire il dovere di fare un altro paio di partite poi di scrivere una recensione negativa per avvisare o perlomeno per condividere con chi deve ancora comprarlo questo parere più di una recensione negativa perché stai tranquillo che i giochi vendono da soli cioè anche senza la tua recensione positiva mentre quelli con le recensioni negative magari a qualcuno riesci a fargli buttare via dei soldi solo che quello dipende sempre dal carattere di ogni persona quindi c'è quello che è più sensibile a queste cose e che rimane un po' scottato e che quindi poi magari non scrive più e c'è quello che invece se ne frega o che addirittura ci si diverte un po' se poi arriva qualcuno a brontolare quindi quello purtroppo fa parte del carattere e non è che puoi dire a uno fregatene se quello non se ne frega quindi questa è una cosa che io capisco benissimo se uno non si sente di fare una cosa di questo genere come anche capisco il fatto che quando trovi un gioco che in fondo non ti piace mettersi a fare qualche altra partita non è assolutamente ma perché uno dovrebbe farlo quindi anche per quello ci sono poche recensioni negative però secondo me se uno si mette in testa di essere un recensore e non solo uno che magari fa dei report e quindi scrive semplicemente delle belle serate che ha passato ma vuoi essere effettivamente un recensore questo dovere di giocare anche un po' a roba che non ti piace o che non è strettamente nelle tue corde dovresti un po' sentirlo e per me tra l'altro questa esperienza è stata anche formativa nel tempo cioè io ho iniziato a giocare venendo da Warhammer prevalentemente per cui un gioco più American non si può e quando ho scoperto i giochi Euro che non l'ho scoperto subito perché poi ho iniziato col trono di spade però comunque quando ho scoperto i giochi Euro chiaramente mi si è spalancata davanti tutta una serie di meccaniche bilanciamenti idee fantastiche nel mondo del gioco da tavolo che mi ha entusiasmato e che mi ha coinvolto nel lobby e quindi per tanto tempo io sono stato un affezionato giocatore di giochi Euro perché ci trovavo un game design superiore ai giochi America quindi guardavo le cose dal punto di vista del game design e vedevo che quel tipo di gioco Euro aveva una concezione che mangiava in testa i giochi American però col passare del tempo con anche diverse compagnie che ho avuto ho cominciato a giocare anche a giochi American soprattutto giochi American degli ultimi anni che si sono molto non solo ibridati ma anche ispirati hanno preso pezzi e comunque concetti dall'Euro game il concetto comunque di bilanciamento di durata contenuta tutte queste cose qua che arrivano dall'Euro game e che molti American game hanno fatto propri e all'inizio sicuramente mi sono un po' forzato o meglio ho giocato a nuovi giochi American perché avevo trovato anche una compagnia che faceva solo quelli e comunque quando sei nella compagnia giusta alla fine giochi a tutto però piano piano ho scoperto un altro universo eccezionale trant'è che ora i giochi distintamente a tutto e questo mi è servito però probabilmente se all'inizio avessi detto no questo tipo di giochi non mi piace mi fermo e non gioco solo agli Euro games probabilmente mi sarei precluso una parte del divertimento ludico che invece adesso apprezzo tantissimo anzi nell'ultimo periodo trovo cose molto più interessanti nei giochi American che non negli Euro games che mi sembrano molto spesso una ripetizione di se stessi salvo qualche eccezione ma si parla di uno e due anni senti Azaroth prima di cambiare discorso ti volevo fare due domande a bruciapello riguardo le ultime cose che hai detto la prima arrivati a inquadrare il recensore qual è il suo compito io ti chiedo ma secondo te quando è che un recensore si può definire bravo quando è che si può definire quel recensore è bravo questa è un po' una domanda difficile io a volte mi trovo a diciamo a leggere le recensioni di altri e a dire questo recensore è bravo quando fa fondamentalmente tre cose mi fa capire in poche righe come funziona a grandiline il gioco quindi non mi ci perde sei pagine che non è il compito di una recensione quando fa un'analisi tecnica estesa e quindi non mi dice semplicemente il gioco mi è piaciuto è piaciuto anche agli altri eccetera eccetera e quelli che trovo più bravi sono quelli che magari vi scrivono qualcosa in recensione qualcosa alla quale non avevo pensato io e mi dico cavolo questo aspetto di questo gioco non lo avevo notato non lo avevo considerato ecco quelli sono quelli che mi sorprendono di più poi non lo so ci sono recessori che mi piace di più leggere perché lo sento e magari anche non lo so che sono più preparati tipo Mauro Di Marco per citarti il direttore di Ilsa che è il il recensore probabilmente più bravo e più preparato che c'è in Italia o a volte per esempio c'è c'è Links in Tana che è molto particolare nelle sue recensioni e a volte anche nelle sue opinioni è è un po' una un outsider che però ti dà sempre uno spunto di riflessione anche quando magari non sei d'accordo con quello che dice ma ti dà sempre la possibilità di rifletterci sopra anche di controbattere anche magari di finire a discutere con lui però ha sempre degli spunti che si capisce che lui il gioco non l'ha semplicemente giocato ma ci si è messo a pensare sopra ecco per dirtene due ma ce ne sono tanti altri è vero è vero lo spunto di riflessione è importante se tu finisci di leggere una recensione e hai degli spunti di riflessione allora significa che la recensione ha centrato il suo obiettivo ti faccio la seconda domanda riguardo a quello che hai inquadrato prima American Euro ti faccio la domanda poi ti dico anche il perché della domanda io ti chiedo per quello che hai visto finora in questo 2023 pensi che quest'anno i titoli American sono di più impatto rispetto a quegli Euro ovvero pensi che siano un anno un po' più American o un po' più Euro ti faccio questa domanda perché spesso facendo le chiacchiere da bar mi capita spesso di fare nomi dei titoli che maggiormente stanno impattando spesso però questi nomi sono molto più di giochi Euro se io alla fine vado a guardare cosa è uscito di American ora veramente di importante mi viene da pensare Wars of Atlantis mi viene da pensare Hotsworn mentre quando vado a vedermi giochi Euro spesso Revive Darwin's Journey Vampiro Inventions poi cos'altro MS mi pare che abbia anche annunciato Horseless Carriage che è uscito l'anno scorso però è anche vero che se gli American sono pochi sono quelli che poi se te li vai a studiare vai a giocare le guardi ti studi regolamento sono quelli che poi alla fine ti dicono cavolo che novità mi interessa veramente mentre invece tra i giochi Euro non sempre succede questo click nel cervello di dirti ah bello lo devo subito provare mi ha stimolato non so se mi sono spiegato ma guarda questo è quello che succede esattamente a me ma anche per il fatto forse appunto che di giochi Euro ormai ne ho fatto un po' in digestione poi per l'amor di Dio Orseless Carriage mi è piaciuto un sacco Egemoni un altro gioco bello Darwin Journey so che sta riscuotendo parecchio successo Inventions ma dici quello Terra Mystica Age of Innovation Inventions è quello è come dire sì quello ah ecco no allora Inventions no Age of Innovation è sicuramente un successo come dire già annunciato ma perché si basa poi fondamentalmente su Terra Mystica ecco diciamo che lì lo sforzo è poco quindi ogni anno comunque anche in ambito Euro qualcosa di interessante c'è quello che secondo me fa un pochettino più sorpresa è che la percentuale cioè ripeto io ogni anno di giochi Euro in collezione me ne metto in casa va veramente senza esagerare a ribasso uno o due o a volte a volte zero ma diciamo uno bene o male si aggiunge sempre su non so quanti usciranno ma veramente tantissimi i giochi American sono anche invece molto meno e magari in casa comunque due o tre mi ci entrano quindi come percentuale è molto più alta certo i giochi American hanno altri problemi perché ora tantissimi comunque vengono prodotti con Kickstarter quindi hanno una reperibilità più scarsa se li manchi diciamo al Kickstarter oppure se comunque li recuperi dopo devi spendere molto di più e questo ne limita comunque anche la diffusione e la fruibilità da parte di molti e lo capisco perché è chiaro quando si va su alte cifre magari te ne compri uno ma poi per mesi ti fai bastare quello giustamente perché no quindi tutte e due le tipologie di giochi se vogliamo hanno un qualche problema alle spalle per ora dove pende di più la bilancia lato secondo te lato americano lato euro più di impatto il settore più di impatto per ora io sono quest'anno ho giocato almeno già due giochi american che sono fantastici uno è stationfall e uno è frost heaven però frost heaven era facile in questo caso non era difficile avere successo con frost heaven mentre di giochi euro quest'anno che proprio mi è piaciuto tanto ti direi per ora è rimasto in casa solo di tutti quelli provati quindi anche egemoni per quanto mi sia piaciuto l'ho venduto a dark this journey non l'ho neanche acquistato eccetera quindi però questa ripeto è più una cosa mia se uno comunque ha parlato di giochi euro quei tre o quattro molto validi li trova già quest'anno ecco sicuramente poi insomma Essen deve ancora esserci per cui il 2023 in realtà non è nemmeno a metà come produzione ludica c'è ancora parecchio da vedere chiudendo come al solito noi chiudiamo sempre un po' con delle classifiche riallacciandosi un po' ai discorsi di fattora dovessi fare una top 3 dei tuoi giochi american preferiti di sempre top 3 dei tuoi giochi german preferiti di sempre per un motivo o per un altro cosa metteresti sì allora ti dico proprio quelli diciamo preferiti nel senso che mi fa più piacere giocare quindi non necessariamente quelli che ritengo i migliori di quelli fatti meglio ma proprio quelli che per i quali mi siedo al tavolo senza mai fare storie non a caso giochi euro sono tutti e tre vecchiotti proprio perché appunto negli ultimi anni non ho ancora trovato qualcosa in grado di ugualiare questi giochi qua il più nuovo ha dieci anni per dire quindi puerto rico che per me rimane comunque un gioco al top della sua gamma che gioco sempre volentierissimo degre zibbaue che appunto è uno dei giochi della spotter spell e secondo me a me è quello che piace di più dei loro giochi ed è il più nuovo di quelli che ti citerò appunto tra questa tripletta euro perché è del 2012 e poi uno che è veramente vecchio che è il grande e che anche quello è un gioco che nella sua estrema semplicità però ti dà sempre quella quella tensione e e lì vedi proprio quelle ha tre meccaniche è il grande ma sono tutte e tre fantastiche sono tutte e tre delle novità per il tempo e anche ora perché poi non ci sono altri giochi simili alle grandi aspetta Marco apri i tuoi parentesi siccome ti sei un aspetto di giochi della splotter e siccome l'abbiamo citato nella puntata varie volte orse le scari ora hai detto di degre zimbabue che evidentemente forse la sua classifica di gradimento della splotter sta o al primo insomma o comunque in alto orse le scari dove lo metteresti nella classifica di gradimento splotter sotto i quelli che io considero i grandi quattro della splotter spellen però subito sotto quindi per me i grandi quattro giochi della splotter spellen sono degre zimbabue antiquity indonesia e bus subito sotto ci può stare tranquillamente orse le scari a me è molto di più a me è piaciuto più anche di full chain magnet però poi il magnet è più vario ha più cose però a me è piaciuto quindi subito sotto questi grandi quattro ci metto top 3 american invece sono molto più recenti proprio a testimonarti il fatto che secondo me negli ultimi dieci anni giochi americano hanno fatto passi da gigante allora uno è gloom heaven o per meglio dire diciamo tutto il sistema gloom heaven anche se possiamo anche considerarlo un ibrido ma anche qui a testimonianza del fatto che i giochi americani sono comunque molto stati contaminati dai giochi euro e di questo esatto ne hanno comunque beneficiato quindi gloom heaven come può essere jose of the lion frost heaven insomma diciamo quel sistema di gioco l'altro è nemesis che pur nella sua oggettiva presenza di difetti a gusto mi piace molto si ritorna a quel discorso del fatto che se uno mi dice che nemesis ha dei difetti delle cose che non vanno ha ragione ma a me piace lo stesso e quindi in una mia top 3 a me diverte sempre un sacco giocando probabilmente ho anche la compagnia giusta per giocarlo come coinvolgimento come resa sì che poi ti dirò io non sono nemmeno un fan dello sci-fi cioè non sono un fan della fantascienza sono molto più attirato dal fantasy però proprio come gioco mi dà soddisfazione giocare meglio il primo o il secondo anche le volte in cui sono morto presto tecnicamente il secondo a livello di ambientazione è il primo e ora vediamo il terzo perché poi ci pensavo quando dovevo creare questa piccola classifichina mi dicevo ma che gioco ci metto per terzo e poi mi sono detto ma cavolo mi sono guardato intorno e ho detto ma guarda quante scatole hai di nemesis perché? perché ti piace cioè allora mettici nemesis è inutile che stai a pensare qual è fatto meglio qual è fatto peggio mettici nemesis e basta invece l'ultimo che ti dico è addirittura un gioco nel futuro nel senso che io ho avuto la fortuna di provare la demo contro di fare tre partite contro i mostri che mi avevano mandato in demo e che però se mantiene le promesse sarà una bomba perché è Primal The Awakening gioco che in teoria è in consegna dicembre 2023 ma ormai diciamo con i tempi di consegna dei keystarter bisogna andarci con i piedi di piombo ripeto io già provando la demo che ovviamente è una cosa meno completa di quello che sarà il gioco finale secondo me è un ottimo gioco sia a livello di resa dell'ambientazione ma soprattutto di richiesta tecnica di soddisfazione che dà al giocatore ho seguito tutti i vari aggiornamenti che tra l'altro è una cosa che faccio poco con i keystarter perché mandano paginate di roba che in genere uno cestina e senza leggere invece in questo caso molti mi sono incuriosito vedo che stanno proprio facendo un lavoro di compassione ecco e quindi spero che poi il risultato finale sia l'altezza delle aspettative ricordo quanto ci ho buttato in quella campagna scritto sopra Marco Fregoso nel senso che io mi sono letto le tue preview non sapevo niente di sto gioco non ho fatto non ho giocato in preview niente niente ho detto lo butto guarda se non altro dei giochi che consiglio ho come dire la coscienza pulita di averci investito anch'io parecchi soldi è un bidone quindi come dire non ti sei tirato indietro all'ultimo esatto ecco non no no è il contrario diciamo dell'influencer che viene pagato per consigliare io pago profumatamente quello che eventualmente consiglio uno è Primal Day Awakening e mi sono basato molto sulle tue sensazioni che erano davvero entusiaste anche quelle iniziali il secondo recentemente è Heroes of Might and Magic lì proprio ho avuto la spinta dalla pancia da sotto senza senso è completo però anche lì l'ho preso anch'io quindi poi ne riparleremo insieme quando arriverà guarda perché anch'io ho avuto la spinta dalla pancia dal videogioco con tutto che l'Arcon non è che mi però avevo la pancia che mi dava mentre Primal invece no è stato ho letto con la testa quello che avevi scritto e mi sono fidato alla scena io ho fatto l'all-in di Heroes of Might and Magic soltanto per il videogioco altrimenti non l'avrei mai fatto l'all-in quindi altro che cancia beh ma penso quasi tutti siamo tutti sulla stessa già il fatto che avessero offerto quelle modalità di gioco diverse sia per la campagna cioè sia per diciamo la parte esplorativa sia per la parte di combattimento viene sempre un po' da insospettirsi dire ma sì sì chiari e tira qui è vero comunque vedremo dai sì sì va bene va bene allora noi ti ringraziamo tantissimo e grazie a voi e nulla spero sia stata una bella chiacchierata e io vi vi saluto chissà quando tornerò al podcast forse chi lo sa Fabio è più presto di quanto pensiamo bravo Andrea bravo vediamo un saluto ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti a White Winston giochi sul nostro podcast il podcast ludico per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochi sul nostro tavolo.it se volete contattarci fatelo attraverso telegram o via email trovate tutti i link in descrizione